manca poco popolo rossonero popolo del bandito io sono ancora qui a casa perché stasera ho lasciato spazio a mio figlio andrà lui ci teneva ad accogliere con molto entusiasmo dalla ruma ma in attesa che arrivi la formazione ufficiale volevo spendere due parole anzi mettiamo un like per loro perché oggi se lo meritano proprio mettiamo un pollicione iscrivetevi e campanella per le notifiche per i ragazzi della primavera perché oggi avendo giornata libera mi sono guardato la partita ed è stato qualcosa di da un lato incredibile dall'altro lato imbarazzante in breve i ragazzi hanno vinto 3 a 2 all'ultimo secondo e strameritavano la vittoria paris saint germain due tiri in porta in tutta la partita due tiri in porta i ragazzi hanno giocato alla grande un primo tempo alla grande anche il secondo tempo hanno sempre cercato la vittoria fino all'ultimo secondo e alla fine ci sono riusciti ma in questa partita ci sono successe tante cose sono successe tante tante cose ad esempio un gol straordinario straordinario perché dalla posizione in cui si trova a dove mette la palla in rovesciata è un qualcosa che ho visto raramente voi rivedetevi riguardatevi il gol di franceschino camarda guardate da che posizione effettua la rovesciata e dove mette il pallone qualcosa che sfida le leggi della fisica è straordinario semplicemente straordinario ma di altrettanto purtroppo non straordinario ma incredibile c'è stato un arbitraggio che io stentavo veramente a credere a quello che stavo guardando rigori non concessi su camarda mancate espulsioni nei giocatori del pari saint germain che potevano fare ripetutamente falli ma anche falli eclatanti ripartenze fermate clamorosamente con falli mai un giallo penso abbiano finito la partita senza neanche un cartellino se non sbaglio se non mi so qualcosa ma il fatto che ancora adesso guardo e non capisco guardo e non capisco lo stesso simi ci guardava e non capiva e si è alzato tumefatto col sanguinante e non capiva a fine partita è andato ancora a chiedere spiegazioni perché non capiva ma come si può capire una roba del genere guardate la foto della copertina siamo in area di rigore c'è un calcio di punizione laterale la palla che spiove il difensore del pari saint germain fa un intervento lo vedete nella foto in kung fu in kung fu saltando gamba che va sulla bocca di simic un calcione sulla bocca di non vi ho messo la foto di come si è rialzato simic con una faccia così sanguinante tutta grondante di sangue l'incapace in giacchetta blu che è lì che guarda sta guardando ce l'ha lì davanti proprio cioè ha proprio i giocatori a due metri se con la visuale tutta scoperta questo rifila un colpo di kung fu in faccia al povero simic e cosa fischia tutti pensiamo rigore poi mancava in cinque minuti alla fine una partita strameritata no fischia fallo in attacco a simic io credo di averle viste tutte credo di averle viste tutte ma una roba del genere cioè è proprio anche difficile da immaginare cosa può aver partorito quella mente malata cosa può aver tirato fuori quella mente malata che probabilmente è rabbioso perché malgrado tutto malgrado tutto questo il milan alla fine è riuscito anche a vincere la partita ha portato a casa tre punti strameritati bravissimi ragazzi faccio un applauso ai ragazzi di abate faccio un applauso abate grandissimi tutti certo camarda un fiore all'occhiello ma tutti e quella mente malata in giacchetta blu a fine partita probabilmente rabbioso per non avere non essere riuscito a chissà poi quale obiettivo poteva avere per fare ha espulso camarda per una bisticciata tra ragazzi lì a fischio finale come capita 200 volte è andato da camarda a estrarre cartellino rosso io pensavo veramente a volte dico il caso l'ho viste tutte le ho viste tutte no oggi ho visto qualcosa di ancora più inimmaginabile un colpo da kung fu e sferrato sulla faccia di un giocatore sanguinante grondante sangue tra l'altro non è stato nemmeno uscito fatto uscire a medicare rimasto in campo con stoico sto simici veramente complimenti anche a lui perché è un grande giocatore questo ragazzo qua verrà buonissimo verrà buonissimo l'anno prossimo sicuramente grondante sangue ha finito gli ultimi minuti in queste condizioni senza che il mente catto con la giacchetta blu lo facesse uscire almeno a medicarsi veramente qualcosa di incredibile che spero sia di buon auspicio per stasera speriamo di non avere un altro mente catto simile perché insomma sarebbe grave molto grave e che sia di buon auspicio per i nostri ragazzi comunque un applauso ai nostri giovani perché si stanno veramente facendo tanto 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 onore e hanno saputo reagire a delle ingiustizie veramente palesi e un applauso chiaramente a camarda perché il suo gol farà il giro il giro d'europa il giro del mondo un quindicenne che fa un gol del genere in youth league è qualcosa di veramente strabiliante ragazzi abbiamo parlato della primavera perché dove lo dovevo perché meritavano questo adesso andiamo a concentrarci sulla partita non ci sono ancora le formazioni ufficiali ci sentiamo ovviamente per il commento post milan pari san germen forza lotta vincerai non ti lasceremo mai per il commento post milan pari san germen forza